Sai cos'è il Fondo Nuove Competenze? È un'opportunità unica per te e per la tua azienda. Perché? Perché ti permette di accedere a risorse formative a costo zero e migliorare le competenze del tuo team. Abbiamo competenze ed esperienza per poterti garantire il massimo risultato. Ecco dove entra in gioco Time Vision. Sono proprio loro a guidarti attraverso il processo del Fondo Nuove Competenze passo dopo passo. Nelle edizioni precedenti il nostro team ha guidato oltre mille aziende, formato oltre 10.000 lavoratori per oltre 30 milioni di euro di beneficio per le aziende stesse. Time Vision è al tuo fianco. Compila il form e contattaci subito.